Prodotto molto buono, con verdure, anche questo prodotto è pratico per chi ha poco tempo, o non ha voglia di cucinare, pronto in 3-4 minuti, gusto con note di dolce, è un prodotto prime, e chi è prime non ha nessun costo alla consegna, buona la qualità prezzo. Vi lascio in descrizione video, il link affiliato Amazon.